Oggi abbiamo dato vita a una comunicazione sulla Fondazione FAIR Intelligenza Artificiale che nasce dal partenariato pubblico privato che sta dietro al progetto PNRR sull'intelligenza artificiale. È l'iniziativa più importante a livello italiano sull'ecosistema dell'intelligenza artificiale, è anche un momento per riflettere sul posizionamento anche strategico dell'Italia nei confronti di questo tema che indubbiamente da un punto di vista scientifico e tecnologico è importante per la leadership del paese ma anche per la leadership industriale. FBK coordina lo Spoke di FAIR dedicato all'intelligenza artificiale integrativa che è l'idea di mettere assieme diverse tecnologie perché noi siamo convinti che questo è quello che serve per risolvere i veri problemi del mondo reale. Prendiamo ad esempio nella sanità, naturalmente devi mettere dentro la conoscenza del medico ma anche tutto quello che tu derivi dai dati e confrontarli. Nell'industry devi mettere insieme tutti i dati che l'industria ha a disposizione ma anche i modelli di un processo produttivo. FBK è il leader di questo Spoke perché al suo interno ha esattamente queste competenze diverse ma non solo perché avere le competenze diverse non basta, bisogna anche metterle assieme. a dei programmi trasversali che permettono a chi ne sa di machine learning, a chi ne sa di antologie, a chi ne sa di altre tecniche di lavorare assieme e non solo fra l'altro di tecnologie ma anche di psicologia, di sociologia, quindi veramente un approccio multidisciplinare. Grazie a tutti! Grazie.